la nuova mercedes slc presentata in anteprima mondiale al salone di detroit dello scorso gennaio raccoglie l'eredità della slk lanciata nel 1996 e venduta in circa 670.000 esemplari i designer mercedes hanno accentuato ulteriormente l'estetica sportiva della roadster come dimostra il nuovo frontale con la mascherina del radiatore verticale che sembra un'estensione del cofano motore affusolato anche l'abitacolo si presenta ancora più raffinato grazie agli inediti inserti di alluminio con rifinitura effetto carbonio chiaro e scuro sfruttando il dynamic select di serie al guidatore è sufficiente premere un pulsante per cambiare le caratteristiche della vettura a seconda delle preferenze il sistema può modificare la curva del motore il cambio lo sterzo e l'assetto oltre alla nuova motorizzazione d'accesso 180 con motore 1,6 litri benzina da 156 cavalli la nuova mercedes slc sarà disponibile nella versione 200 con propulsore 2 litri a benzina da 184 cavalli nella versione 300 con un 2000 benzina da 245 cavalli nella versione 250 d con motore 2,1 litri diesel da 204 cavalli e nella super sportiva amg 43 con motore v6 biturbo di 3 litri da 367 cavalli le varianti 250 d 300 e amg 43 hanno di serie il cambio automatico 9 gtronic mentre per 180 e 200 c'è il manuale a 6 marce prezzi compresi tra 37 mila e 67 mila 650 euro a lunedì per la prossima breaking new buonanotte